Il treno regionale, 5703, di Trenitalia, proveniente da Castelfranco Veneto, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 6 e 10, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5700, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Castelfranco Veneto, delle ore 6 e 19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 5735, di Trenitalia, proveniente da Castelfranco Veneto, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 14 e 10, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5732, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Castelfranco Veneto, delle ore 14 e 19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 5763, di Trenitalia, proveniente da Castelfranco Veneto, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 21 e 10, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5760, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Castelfranco Veneto, delle ore 21 e 19, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.